...120, vi si è avvento forte, fraicabilità, quindi tendenzialmente avete nebbio e lungo tracciato, 10 secondi, in conseguenza vi chiediamo di limitare le nostre soste dei tratti in 40 secondi. ... ... Good stuff Dave 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 Come on James Come on James Come on Go down Dylan Moving good dude Good stuff Dave Good stuff Dave Good stuff Dave Good stuff 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 Grazie a tutti Grazie a tutti